Piazza della Libertà, un saluto da Cristiano Sala per questa nuova puntata dedicata al calcio a mercato, ovviamente perché in questo momento si stanno facendo i giochi della panchina e non solo e restiamo nel tema dedicato a Simone Inzaghi, ieri ci sono state alcune novità, il Milan ha salutato Gattuso, questa mattina Gazzidis sulla Gazzetta dello Sport ha fatto la sua intervista, ha praticamente detto che l'offerta a Maldini da direttore tecnico aspetta soltanto una risposta e che solo in quel momento verrà fatto il nome dell'allenatore. Parliamo del Milan perché in questo momento è la pole position nell'idea di Inzaghi, ecco perché se non dovesse restare alla Lazio Simone Inzaghi potrebbe andare al Milan, si parla della Sampdoria, si parla dell'Atalanta, ma obiettivamente lasciare la Lazio se così dovesse accadere potrebbe accadere soltanto per una grande squadra come appunto il Milan. Questa mattina dando un'occhiata ai giornali, i giornali che ovviamente si stanno occupando di questi argomenti sono emerse alcune soluzioni, alcune soluzioni non soltanto appunto sul nome dell'allenatore ma anche ovviamente per il calcio a mercato. Andremo a leggere un paio di articoli dei giornalisti e lo facciamo tra pochissimo. Cominciamo con il Corriere dello Sport, il giornale di Roma che parla anche della Lazio e lo fa con la firma di Fabrizio Patania. E ora Lotito si cautela, il presidente studia il possibile piano B ovviamente nel caso in cui Inzaghi dovesse andare via dalla Lazio. Aspetta la decisione di Simone, si guarda intorno con Seisao ma anche Maran e Pioli in corsa. Il terzo e ultimo incontro è previsto tra oggi e domani, anteciperà la partenza di Inzaghi per due settimane di vacanza negli Stati Uniti. Sensazioni negative. Può consumarsi l'addio, eppure il tavolo resta aperto, è un invito al rinnovo. Lotito aspetta le decisioni di Simone, ha proposto un triennale, ha illustrato i suoi piani per rinnovare la Lazio e impostare un nuovo ciclo. Ci conta, non cambierà idea. La prima mossa e la responsabilità del divorzio, possibile non ancora sicuro, toccherebbero all'allenatore. Se è attratto da altre offerte, si dovrà liberare. Il contratto in vigore scade il 30 giugno 2020. La Juve lo considera l'alternativa di Sarri. Il Milan è senza panchina, l'Atalanta lo aveva indicato come prima scelta in caso di addio di Gasperini. La Samp ci potrebbe pensare. Qualsiasi club, se volesse Inzaghi, dovrebbe bussare a Formello e aprire una trattativa. La risoluzione del contratto non era un'ipotesi prevista. Il DS Tare anche ieri esprimeva la convinzione di portare avanti il progetto legato a Inzaghi nel segno della continuità. L'ultimo round diventerà decisivo per cercare una via d'uscita da condividere. L'Utito intanto si guarda intorno, studia un piano B in caso di divorzio. L'indiscrezione non suona come una contraddizione rispetto alle dichiarazioni rilasciate durante la premiazione USSI e non esclude una conferma se Inzaghi aderirà al piano proposto dalla Lazio. Il presidente si starebbe attivando per cercare un altro allenatore. Non intende farsi trovare impreparato. Ha capito che Simone potrebbe lasciarlo e sta metabolizzando la delusione. Produrrà come in passato una reazione inevitabile. Allacciate le cinture. Siamo al prologo del casting e scatterà venerdì in caso di esito negativo all'ultimo incontro. Colloqui, esplorazioni conoscitive in gran segreto. Anche per capire se ci sono allenatori che lo convincono di più rispetto a Inzaghi. Rimasto ad oggi il candidato numero uno per il DS Tare. Altra avvertenza. Da qui ai prossimi giorni fioccheranno le candidature. Gli incontri si moltiplicheranno. Meglio non illudersi e diffondere certezze. Si rischierebbero brutte figure. L'estate 2016 insegna. Simone Inzaghi, non confermato a fine campionato, diventò il tecnico della Lazio il 10 luglio. In quel mese e mezzo, sulla sua panchina, si alternarono San Paoli, Prandelli, Bielsa, passando attraverso Ventura, Montella, Gasperini e Maranna. Proprio il tecnico del Cagliari potrebbe essere una papabile sorpresa. Lo Tito lo conosce più di De Zerbi, di cui si è parlato a lungo nelle scorse settimane. Gode di buona considerazione Gian Paolo in uscita dalla Samp. L'insospettabile Rino Gattuso, appena divorziato dal Milan, preferirebbe l'estero. Piace al presidente della Lazio che nel 2014 tentò di convincere Allegri, oggi impossibile da prendere. Tare ha tratto da tecnici in grado di esprimere un calcio offensivo. Occhio al possibile ritorno di Stefano Pioli, terzo nel 2015 in finale di Coppa Italia. Tra i giovani rampanti c'è Liverani, promosso con il Lecce. Ipotesi straniere, in Paul Sergio Conceisau, amatissimo ex, si può liberare dal porto e poi Paolo Fonseca dello Shakhtar, proposto da Mendes, e l'outsider Mihailovic. È l'amante mai sposato da Lotito. Questo era l'articolo di Fabrizio Patania del Corriere dello Sport, che come vedete fa questa avvertenza ai navigatori. Ne stiamo parlando in questi giorni, lo sentite in ogni podcast che facciamo. Sono tanti nomi che girano e c'è comunque la prudenza. Infatti molto spesso parliamo di sensazioni perché parliamo con tutto l'ambiente Lazio, registriamo le voci, però parlare di notizie vere e proprie ancora non è possibile, quindi le trasformiamo in voci, in sensazioni. Anche l'articolo di Corriere dello Sport ti dà questa idea, che in questo momento c'è un umore molto negativo che è quello di Lotito, ma di solito nelle difficoltà il presidente della Lazio reagisce sempre con dei colpi a sorpresa. Ovviamente l'idea della Lazio in questo momento qual è? È quella di restare con questo contratto di Simone Inzaghi, confermare Simone Inzaghi e aspettare che l'allenatore esca fuori e dica quello che vuole fare. Se vuole restare senza rinnovare, per Lotito non ci sono assolutamente problemi, lui resta e dovrà dare il massimo. Questa è l'idea un po' di Lotito, perché se alla fine del contratto cerca un'altra squadra dovrà dare il massimo per trovarla, quindi dovrà dare il massimo con la Lazio, mettersi in mostra e trovare una squadra. Il rischio però qual è? Che Inzaghi non voglia giocarsi così questa carta, con una Lazio che non si sa come sarà il prossimo anno e quindi cercare di approfittare, approfittare del buon momento della sua carriera, che ha fatto veramente molto bene, lo sappiamo tutti, è amatissimo e quant'altro, però è sempre un professionista e in questo momento ci sono delle occasioni da sfruttare. Ovviamente non è una questione di soldi, certo, come ne parlavamo con Giuliano De Matteis, se ti danno più soldi è un ottimo motivo anche per pensarci, però ecco il Milan è l'ipotesi più accreditata. Di conseguenza i nomi che sono stati fatti, quelli di Maran e soprattutto, vengono, diciamo così, trasportati anche in altri scenari, raccontati anche da altre testate. Passiamo al messaggero, al messaggero di oggi, martedì, di oggi, che è mercoledì 29 maggio, in cui vengono proposte anche delle soluzioni, delle soluzioni di calciomercato interessanti. Ovviamente non sono dei nomi che fanno sognare la piazza, ma questi tifosi da Lazio lo sanno, sono cose che potrebbero ovviamente accadere prossimamente, nomi nuovi, però si va sul sicuro, anche perché questa è l'indicazione di Inzaghi, quello che voleva Inzaghi, giocatori già pronti, già pronti per tentare questo benedetto assalto alla Champions League, che ovviamente sarà l'obiettivo anche del prossimo anno. Andiamo quindi a leggere che cosa dice il messaggero, il quotidiano ovviamente che si occupa non soltanto di sport, ma che segue la Lazio e lo fa da vicino, da tutti quanti i giorni. Ci sono anche delle ipotesi legate appunto a degli acquisti. Allora, leggiamo l'articolo che oggi porta la doppia firma di Alberto Abbate e Daniele Magliocchetti, Lotito e Inzaghi partita a scacchi. Questo è il ticolo e tra poco leggiamo il pezzo. E quindi ecco l'ipotesi che viene fatta oggi dal quotidiano romano. La partita sembra infinita e piena di pause. Ne Inzaghi ne Lotito giocano a carte scoperte, attendono le mosse, non solo l'uno dell'altro, ma anche quelle delle altre squadre. Non si muove ancora la Juve, il Milan ha cacciato Gattuso, ora molto staccato insieme a Mialovic e De Zerbi fra i nomi della panchina bianco-celeste, ma deve prima risolvere le sue beghe societarie. Così anche il caos calmo della Lazio prosegue. Nemmeno ieri si è consumato un nuovo incontro. Il mister era a Piacenza e al massimo ha parlato al telefono. Lotito invece era a Senigallia, riceve un altro premio. Oggi tornerà a Formello, anche il DS Tare. Anche lui ha costato il Milan dal suo viaggio. E allora potrebbe essere la volta buona, prima delle vacanze, a meno che non decida di rimandare la partenza di dopo domani di Inzaghi negli Stati Uniti, per provare a mandare in scena il confronto decisivo. Anche se ha tutto l'interesse di boicottarlo il tecnico. Lui non ha fretta di decidere, ha preso tempo e in queste ore sta studiando con la sua famiglia ogni scenario, a meno che non sia Lotito a licenziarlo. Tutto è aperto. Simone adesso vuole riservarsi la sua scelta dopo aver visto come finirà il mercato. L'esperienza lo ha forgiato. Stavolta non ha intenzione di intraprendere a occhi chiusi un nuovo ciclo. L'ultima Ferrari consegnategli in campionato per poco non lo portava allo schianto. Lo ha ribatito Lotito. Fra Inzaghi e la Lazio c'è ancora un anno siglato, fino a 2020. Ma chi ne è davvero stagio? Il presidente ora sfogge il contratto del tecnico per poter chiedere a chi lo vuole un indennizzo. Eppure pochi giorni fa era stato lui a parlare dell'importanza del rinnovo per dare stabilità alla squadra e al progetto. Inzaghi vuole fare il salto di qualità per la crescita della sua e della società. E se questo non verrà garantito dovrà essere Lotito ad assumersene la responsabilità. Simone per ora non firma, ma il patron non molla. Nella testa di Lotito c'è solo Simone. Oggi potrebbero trovarsi di nuovo l'uno davanti all'altro, con la possibilità di trovare un accordo a metà strada, ovvero di rinnovare. Ma non per tre anni, bensì per una sola stagione, fino al 2021. Un piccolo salto avanti raddoppiando comunque l'ingaggio. Ma resterebbe un compromesso bello e buono. Non si è ancora nemmeno arrivati a parlare di soldi negli scorsi incontri. Lotito e Inzaghi si sono fermati all'accessione dei big e ai prossimi colpi. Simone, come al solito, vorrebbe giocatori pronti, in stile immobile. Lei va dai cerbi, per intenderci. Ma la Lazio deve pure pensare a svecchiare la rosa con gli acquisti. Dormisi ha fallito e serve un nuovo sostituto di Lulic. Marusic davanti a offerte andrà via e bisogna risolvere da un anno, non basta certo il riscatto di Romulo, sulla fascia destra. Per non parlare della difesa, via Wallace verranno confermati Luis Felipe e forse Bastos, ma serve un altro centrare top e forse pure uno, si riparla di Biraschi del Genoa, al posto di Radu. A centrocampo Berisha non ha mai sostituito Parolo, hanno le valigie Milinkovic e Luis Alberto. In avanti via Caicedo, dentro Wesley, West Ham permettendo. Già preso il baby a De Canier, un esterno da 4-3-3 in scadenza del Liverpool, che spinge a fare considerazioni sul modulo. Inzaghi quest'anno sul 3-5-2 è rimasto fermo. Avrà voglia di essere meno rigido se sarà ancora lui il tecnico? Questo era l'articolo del messaggero a film di Alberto Abbate e Daniele Magliocchetti. Come avete sentito, trapena un po' di pessimismo dagli inviati che seguono giorno per giorno la Lazio e quello che noi cerchiamo ovviamente di filtrare è che qualsiasi sarà la scelta sarà fatta ovviamente per il bene della Lazio che è legato a un progetto, un progetto che ovviamente fatica a decollare perché non ci sono i milioni di Euro delle grandi società, però c'è la voglia di fare dei passi importanti. Quello che ci sentiamo magari di dire è che quest'anno si è partiti male, con quella famosa telefonata di Cortina, questa lite, questo sconto tra Inzaghi e Lodito. Ecco, si sta finendo male, con la stessa coda, quindi forse è il caso di pensare se ripetere gli stessi errori possa portare a raggiungere degli obiettivi. Noi pensiamo di no, serve un ambiente sereno soprattutto perché si sta parlando di una rifondazione dettata dall'età di molti giocatori della Lazio, quindi ci auguriamo che la scelta venga presa con calma e lucidità, ovviamente pensando tutte le conseguenze che possono arrivare. E intanto vi ringraziamo per aver ascoltato un nuovo episodio di Piazza della Libertà, il podcast che parla appunto di Lazio e non solo, un saluto da Cristiano Sala che vi ricorda i nostri canali social, Facebook, Twitter, Instagram e ovviamente lo streaming e i podcast stessi attraverso Spotify e Apple. Grazie a tutti, alla prossima.